Il consorzio di bonifica 3 e medio valdano in tre anni ha investito 3 milioni di euro per riqualificare il Bisenza e i suoi affluenti nei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, utilizzando finanziamenti europei ma anche i contributi dei cittadini raccolti tramite la tassa di bonifica. Si tratta di interventi suddivisi in tre grandi branche, cioè quelli della manutenzione ordinaria, che viene fatta col tributo, che ammontano a circa 1.253.000 euro, quindi il tributo dei consorziati della Val di Bisenza viene ben speso negli ultimi tre anni e anche prima ovviamente. Poi esiste quella formula del PSR, il piano di sviluppo rurale, che tanto ha consentito al consorzio e all'Unione dei Comuni di investire in Val di Bisenza, che è una misura specifica per i corsi d'acqua montani e che il consorzio ha sviluppato sia nel PSR 2007-2013 attraverso interventi per 1.300.000 euro che hanno riguardato i corsi d'acqua minore della Val di Bisenza, sia nel PSR 2014-2020 con oltre un milione di euro di investimenti che riguardano le briglie e tutte quelle opere fondamentali per trattenere l'acqua, immagazzinarla e evitare che, se lasciata troppo andare, faccia danni. I lavori sono stati realizzati in stretta collaborazione con l'Unione dei Comuni della Val di Bisenza. La soddisfazione per i dati che abbiamo presentato oggi, che dimostrano come il consorzio di bonifica e l'attento lavoro dei nostri tecnici, ha permesso di portare sul territorio della Val di Bisenza una cifra molto superiore, tre volte superiore a quello che viene, come dire, incamerato dal contributo della bonifica che arriverà nei prossimi giorni e che sarà quest'anno, in base alla nuova riclassificazione delle aree, anche leggermente più basso rispetto agli scorsi anni.